Musica Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com, passate nel link in descrizione Vai, illuminati, dammi Portogallo, Argentina, dammi un qualcosa di buono Eh, va bene, ci dà Silva, ragazzi Silva 87, e questo è molto buono E questo è molto kinder buono, grande Silva Con lo sassone E ci dà un Andanovic 87, molto buono, ragazzi Nainggolan, dai No, ci dà però, signori, attenzione Lukaku Lukaku Bellissimo 86, Lukaku Oh, pacchetti da 100.000 Mamma mia, ragazzi Che vuol di due per uno? Pacchetti da 100.000, ragazzi Oh, oddio, potrà darmi un'icona, if Dai, argentino, Portogallo Chi cazzo è? Ancora Under 80, signori Molto buono Ok, dammi un'icona, Cristo Dai, argentino o Portogallo Chi Chi c'è sta qua? Chi è Moses? Chi è? Eh sì, regà, è lui Moses 82, molto buono Tedesco COC Oh Oh, sil 88 sil 88 sil, ragazzi Buonissimo Buonissimo, ragazzi 88 sil Oh Bello Amm Che mi chiede, pian Se no, dammi E di nuovo Di nuovo sil 87 Buonissimo Sil 87, ragazzi Va bene Va bene sil 87 87 E ci dà anche Zeko Che schifo Oh, ci dà anche un altro Lukaku Che è Ericsson Dai, buono, ragazzi Ericsson 87 Questi, tutti quanti per fare le squad battle challenge Sono buonissimi 87 Ci dà un if Anche i cardi Buono, 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 buono Buono Anche gli if, ragazzi, sono molto buoni per fare le sfide Sta arrivando dammi l'icona, no? If, dai Portogallo-Argentina No, cazzo No, sto coglione No, sto coglione È la terza volta che lo trovo Oh E dammi l'icona, no? Dai, Portogallo-Argentina Ma dammi qualcosa di buono Mortacci, tu, ATT Che mi ha dato qua? Ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo Ma chi cazzo Ma chi Che cos'è sta roba? Dai, Suarez Ramos Chi è? Check, no San Sanchez Sanchez 89 Sanchez 89 Questo è eccezionale, regà Questo è eccezionale Questo è eccezionale Oh, Miranda Miranda, tu lì, vai lì Buonissimo C'è anche i bei lì, regà Aspettiamo Icona Niente Portogallo-Argentina No, spagnolo, no Portiere No, spagnolo, portiere No, spagnolo, portiere Anche se è buono Rigo 84 No, però, cavolo No, cittadino Moses Vabbè, dai, buono Ci danno di nuovo Moses 82, regà Non è male Non è male, regà Non è male Ok, siamo a 4200 like Arriviamo Marcello No, Alexandro 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 Fantastico Vediamo che ci dà Mkhitaryan No Rodriguez Rodriguez, regà 86 Buonissimo Rodriguez 86, ragazzi Questi qua per fare Squad Building Sono spettacolari Ok, si illumina Pac da 100k Dai Check Ci dà check, regà Molto buono check Molto buono Buono, buono, buono Check 86 4700 like Intanto siamo a 5000 like E vi dedico poi il pack Ericsson Ericsson 87 Di nuovo, ragazzi Ericsson 87 Di nuovo Scontati da Mellicona Cazzo Vai Argentino Portogallo No, francese Mannaggia Questo dovrebbe essere 82 Se non sbaglio Esatto Portogallo Argentino Ah, francese No, vabbè Dai, ragazzi Sempre gli stessi Sempre gli stessi Sempre gli stessi Sempre gli stessi Ciao, cugino Andrea Di dato Ciao Pucci O questo O il difensore O questo O il difensore Che è 59 Apriamoci questo, ragazzi Che muovesco Di pacchetti A 125.000 Siamo a 6600 like, ragazzi Dobbiamo arrivare a 7000 like Che forza 7000 like Niente Spagnolo Portiere Sempre lo stesso Anche questo Però almeno un 84, ragazzi Quindi Rico 84 La fine è buono Ok, sono le 21 Sono le 21 Quindi questo lo mandiamo via Dacci i pacchi promo Eccoli qua 125.000 2 per 1 Mamma mia, ragazzi Il 2 per 1 Qui è tanta roba Chi pacca a 125.000, eh Dammi l'icona Dammi un if Fa come cazzo le pare E basta me dare qualcosa di buono Ci da Lewandowski Ah, click 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 no Click non ci faccio niente Dai, dai, dai Regà Dai, regà Oh, Neymar No Neymar è vero Sto a Paris Saint Germain Ho flashato Neymar sta al Paris Saint Germain Ho flashato, regà Codiglio No Che fail Che fail, regà Ho visto adesso Ho detto Oddio Neymar Invece sta al Paris Saint Germain Che fail del cazzo, regà Madonna mia Dame Buffon Oh, meno male Almeno Buffon Grazie Grazie FIFA Almeno Buffon Si è ruotato il signore Almeno Buffon 89 Con Amsic Questi sono pacchetti Vabbè, dai Diego Costa, ragazzi Diego Costa Non è male Costa 86 O icona Un attacci tua Dai, CR7 Ma chi è Ma chi è? Che c'è sta, regà Non lo so Iovedic Tutto sto bordello Iovedic Niente icona Ci da un if Madonna mia Portogallo Argentina Nooo Che cazzo è qua Il 78 Moris Come pure 94 Sto stronzo Ho detto Mo mi da Ramos Almeno Ramos Invece no Sono stato zitto apposta Sono stato zitto apposta Ho detto Mo me lo da Invece no Portogallo Argentina Fammi sto regalo Sempre difensori Sempre gli stessi Sempre difensori Sempre gli stessi Parca bruttana Dai Portogallo Argentina Vabbè Roberto Firmino Vedi chi crede Ti porta una fortuna E questo ce l'abbiamo Doppione Dai così Questo è buonissimo E' uno dei top 3 player Della squadra Settimana Speriamo sia buono Ragazzi Speriamo sia buono Dite me che è un'icona Allora io non lo so Ho chiuso l'occhio Un'icona Un if Un Top Bel top player Un altro Roberto Firmino Mi va benissimo Oddio Pare gli 86 Dai Lo sto facendo solamente per voi Ragazzi No dammi l'icona Mortacci tua Ah Io vedici di nuovo Dite che è buono Ragazzi Sarà sicuramente buono Però porca buttana Che quale Tanta roba ragazzi Tanta roba Solo da giocherino Trovate questa roba Qui Italiano Chiellini Nooo Bonucci Ci da Bonucci 88 Va bene Comunque va bene Un 88 ragazzi Va benissimo Niente icona Ci da un altro if Portogallo Argentino Ormai ho perso Le speranze Mannaggia la puttana Oh E' il quarto ragazzi E' il quarto che trovo Mi dai Portogallo Mi dai Portogallo Quattro volte Mi dai quattro volte Lo stesso giocatore Vabbè questa è buona Ragazzi Questa è buonissima Bernardeschi 84 Almeno un if Differente dal solito Grazie FIFA Grazie Gentilissima Almeno ci dai un if Diverso dal solito Bernardeschi Nainggolan Non l'avevo visto Nrasha Nainggolan Daliali pure Nainggolan Non l'avevo visto Bello del zio Vai divendo così Così facciamo Ovi sconti Chi se ne frega Buono David Luiz David Luiz Questo umore Costa tanto Ragazzi Costa tanto 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 E Guaio Quello costa Assai Guaio E dammi l'icona Facci sognare Mortacci tua Vai a canale Vaffanculo De tu madre E ci dà L'esterno-sinistro Pucce 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 In gula Mammede Pucce In gula Mammede Mortacci tua Allora siamo a 7600 like Grandissimi Scrive Abbiamo 53 pacchetti speciali Da 100.000 A 125.000 Scrivete a me ragazzi E vi dedico il pacchetto Forza Tutti quanti a me E ve lo dedico Dai Dai ragazzi No basta pacchetti Non scioppo più Raga Basta 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 Anche se arrivare a 100 pacchetti Sarebbe stato fantastico Però basta Ultimo pacco Questa ragazza era l'ultimo Ok ci dà silvo 87 Non è male Non è male silvo 87 ragazzi Non è assolutamente male Allora abbiamo 54 pacchetti Di cui 20 da 100.000 E 34 da 125.000 Mi apro l'ultimi 4 pacchetti Da 125.000 Solamente qua per voi ragazzi Poi questi giorni Mi porterò all'estratto live Di questa live Qua Vediamo un attimino Ho aperto un pacco da 100.000 Sto sbagliato Sto sbagliato Sto sbagliato Argentino C'è G Pastore Pastore Non ci dà l'inf E non ci dà l'icona Spagnolo ATT Adolizia Mamma mia Scontato Scontato ragazzi Ormai lo conosco Troppo bene Sti pacchetti Signori miei belli di casa Allora Io direi che questa live Può terminare Siamo con la prossima live Grazie mille a tutti Grazie ai moderatori Grazie a tutti quanti Quello che hanno visto la live Fino adesso A chiunque ha donato A chiunque ha commentato A chiunque ha guardato Anche un singolo minuto La mia live Grazie ancora a tutti Vi voglio un mondo di bene Guardatevi i video Che usciranno questi giorni Sempre 14 e 19 Non mancare Alla prossima live Ciao Belli di casa Ciao